Per la successione a presidente uscente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, l'ultimo eletto dei cittadini e attualmente sindaco di Fossa Cesia, il prossimo 12 ottobre, giorno delle elezioni di secondo livello, si sfideranno per il centrosinistra il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e per il centrodestra il sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli. Pupillo è sostenuto da una lista unitaria, provincia unita, con 12 candidati consiglieri. Due, invece, le liste di appoggio alla candidatura a presidente di Scaricaciottoli, insieme per il territorio e la provincia che vogliamo. A votare, in ossequio alla nuova legge di riforma e ridimensionamento delle province, come detto, non saranno i cittadini, come accaduto nella passata tornata elettorale, bensì i sindaci e i consiglieri comunali dei paesi della provincia di Chieti. Abbolita la giunta, resterà un'assemblea dei sindaci che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo.